Siamo a bordo campo del CSI 3 Stelle di Bagnaia, insieme a un'amazzone elvetica che però risiede in Italia presso Torino a Vinovo, si tratta di Jane Richard che è moglie di Ignaz Philippe, è molto nota come amazzone, è anche molto brava ed è anche un'abitue di Bagnaia, allora le chiediamo con quale cavallo è venuta quest'anno? Allora, io sono qua con un cavallo italiano che si chiama Upanissat di San Patrignano che ha 9 anni, poi il secondo cavallo è Cadet che ha anche 9 anni e il terzo cavallo è Diodonet che ha 8 anni che farò questa gara adesso che inizia. E il Gran Premio pensa di farlo con quale cavallo? Penso di farlo con un Upanissat di San Patrignano. Ecco, lei è venuta più volte a Bagnaia, quindi possiamo considerarla un'abitue, come trova quest'anno il concorso? Il concorso è bellissimo, per me è uno dei più bei concorsi che c'è in Italia, posso solo fare i complimenti a tutti che lo fanno, che aiutano, che abbiamo la possibilità per partecipare ai concorsi così belli. Ma tra lei e suo marito, poi dopo fate la pace quando andate a casa visto che sul campo siete in competizione? Sì, sì, alla fine c'è sempre pace, ogni tanto uno dice all'altro cosa hai sbagliato però va anche bene così per andare in avanti. Certo, oltre che una bella famiglia anche un team. Esatto. Grazie, grazie Jane. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Grazie.